La volontà buona non è tale per ciò che essa fa e ottiene e neppure per la sua capacità di raggiungere i fini che si propone, ma solo per il volere ciò in se stessa. Ecco cosa pensava Kant sul concetto di volontà, un buon punto di partenza per il seminario Etica e Normatività, organizzato dalla Scuola Superiore di Studi in Filosofia, che ripensa le teorie del diritto in rapporto all'etica. Poi naturalmente c'è un altro discorso, qual è il fondamento filosofico dei sistemi giuridici, cioè perché puniamo le persone? E qui ci rientrano discorsi sul tipo di responsabilità che si può mettere in gioco, se si è responsabili, se per esempio la teoria della pena debba guardare all'azione che è stata compiuta o alle sue conseguenze, alle intenzioni da cui è scaturita, insomma discorsi complessi, per questo i filosofi ancora esistono. E' sempre importante di valorizzare azioni anche con una prospettiva etica, ma non solamente. La prospettiva etica è una prospettiva, ma molto importante per nuovi risultati della vita moderna, risultati scientifichi nella medicina o tecnologia. Rapportare un'azione ai suoi effetti o giudicarla a priori sono argomenti di indagine su cui i dottorandi al seminario devono riflettere in relazione a macroconcetti. Riferendoci in particolare all'Europa, il rapporto fra etica e politica? Il campo politico ha regole speciali e anche fini più restretti, per esempio di esprimere la volontà del popolo. Ma è necessario di non limitare le sue azioni anche nel campo politico a queste regole interne. Se parliamo di bioetica? Se parliamo di bioetica i rapporti con la nozione normativa naturalmente sono centrali. A seconda del punto di vista che si prende sull'etica cambiano molto le soluzioni che si danno ai problemi aperti. In quel caso però non è tanto direi la questione di che cos'è la responsabilità, ma chi è responsabile, quando è che si comincia a essere responsabili, per che cosa e in quali condizioni. E soprattutto se è primaria l'idea di dignità della vita oppure se la vita è sacra, come pensano i pensatori più orientati religiosamente. Quindi sono dibattiti che uniscono questioni politiche, normative nel senso giuridico ed etiche.